Ben ritrovati amici di Star Casino Sport, torna la rubrica settimanale dedicata alla Serie B. Ci siamo lasciati alle spalle un weekend bellissimo, ricco di gol, 27-11 giornata, la top 3 dei gol più belli, scelta dalla sottoscritta. Sul gradino più basso del podio finisce Davide Dio che sta tornando a essere un attaccante decisivo per il torneo cadetto. Il suo Bari ha battuto il Brescia per 2-1 alla riga Monti, lui manda il manicomio Mangraviti, poi sinistro vincente, piccola responsabilità però del portiere del Brescia, Lezzerini. Secondo gradino del podio per il mudo, l'eterno Franco Vasquez nel successo al Cardiopalma, il fotofinish della Cremonesia, tombolato contro le Cittadella, gran cross di Quagliata, gran colpo di testa per il mudo Vasquez. Il gol più bello però è firmato da Nicolas Pierini, numero 10 e attaccante del Venezia. Sinistro il volo meraviglioso, quando non segna poi a un palo, ci pensa Pierini che fa tornare alla vittoria il Venezia, sconfitto il Pisa per 2-1. Finisce qui la rubrica di questa settimana, io vi aspetto la prossima settimana, ciao!